benvenuti nel corso grammatica italiana a livello c1 mi chiamo ad abasi nel questo capitolo continueremo a studiare il futuro anteriore come si forma e quando si usa futuro anteriore dunque prima di tutto il futuro si divide in semplice e composto tutti sappiamo questo capitolo spiega su uso del presente al posto del futuro il futuro e espressioni dei tempi usati nel futuro il futuro anteriore parlare del presente e del passato in futuro per primo passo vogliamo sapere perché cosa si usa il futuro si usa per parlare di fatti o azioni future ma anche per parlare di azioni presenti e azioni passate ma com'è possibile il futuro usare così ci sono due futuri in italiano già abbiamo visto futuro semplice abbiamo conosciuto come si forma e come si usa parliamo del presente utilizzato al passato del futuro che succede molto spesso nella lingua colloquiale quindi nella lingua parlata che cos'è il presente è un'azione che avviene nel momento in cui si parla il futuro invece si utilizza per esprimere un'azione che avrà il momento successivo in cui si parla allora si chiama presente pro futuro di solito si accompagna espressioni o avverbi di tempo che diano il senso di azione futuro un'azione che nel futuro più vicino accadrà sempre esprime la certezza un'idea chiara certezza di qualcosa succederà sicuramente facciamo alcuni esempi molto comuni per esempio domani vado al mare giovedì o il dentista o lunedì prossimo comincio a lavorare in spagna domani incontriamo il professore in tutti questi esempi possiamo sicuramente usare il futuro in tutti questi esempi possiamo sicuramente usare il futuro se diciamo domani andrò al mare giovedì avrò il dentista lunedì prossimo comincerò a lavorare in spagna domani incontreremmo il professore quindi possiamo al posto comincio usiamo comincerò al posto incontriamo usiamo incontreremmo espressioni di tempo nel futuro per parlare al futuro usiamo alcuni espressioni di tempo per esempio domani domani mattina dopo domani prossimo prossima prossimi prossime dipende cambia situazione se viene con il mese diciamo il mese prossimo se viene con la settimana la settimana prossima tra 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 per esempio tra tre giorni tra un mese e l'ultimo nel più anno nel 2023 o altre cose che possono esprimere tempo nel futuro il futuro semplice come ritornerò dormirà leggerai andremo parete eccetera come abbiamo imparato il futuro semplice è un'azione conseguente dalla prima si usa per indicare dubbio o incertezza con sicurezza per esempio è arrivato qualcuno chi sarà chissà nessuno sa chi è lui o lei supposizione per esempio avrà 90 anni penso che abbia 90 anni chissà forse di più o forse di meno promesse per esempio non ti preoccupare ti aiuterò alla fine parlare su progetti per esempio l'anno prossimo andrò in italia per studiare e mi iscriverò all'università quindi nel questo ad esempio dice c'è un motivo per studiare in italia quindi c'è un progetto per il futuro dei tuoi sogni però senza problemi in futuro altri esempi azione futuro fra una settimana sarò al mare in grecia incertezza che cosa penserà di me la tua sorella supposizione non conosco quel ragazzo ma sarà un nuovo studente di matematica il futuro semplice e il futuro anteriore possono esprimere una supposizione e un'ipotesi nel passato o nel presente dubbio come che lavoro farà il tuo amico chi sa che lavoro fa nessuno non sa qualche esempio per un fatto probabile nel futuro semplice lui avrà al massimo 40 anni significa deve avere 40 anni forse 40 anni dopo domani Luigi andrà in Brasile forse deve essere in Brasile domani sarà una bella giornata forse deve essere bella giornata secondo te finiremmo la scuola tra una settimana quindi forse ha un grado probabilità il futuro anteriore è un tempo composto del modo indicativo in questa parte parliamo del futuro anteriore prima di tutto come si forma futuro anteriore in italiano e poi quando si usa allora diciamo indica un'azione futuro che è anteriore ad un altro futuro ha valore suppositivo indica un'azione conclusa nel futuro un'azione che sarà conclusa per esempio domani a lettere avrò finito l'esame parlo di un'azione che domani sarà conclusa alle tre l'azione è conclusa conclusa nel futuro e l'ultima la conseguenza dell'azione sarà il futuro semplice il futuro anteriore ha due azioni in successione nel futuro un tempo precedente ad un altro futuro alcune espressioni introdotto da dopo che già appena quando eccetera facciamo esempio dopo che sarò arrivata a casa telefonerò se noi siamo qui adesso sarò arrivata a casa telefonerò in questo caso abbiamo due azioni la prima al futuro anteriore dopo che sarò arrivata e l'azione che sarà conclusa nel futuro ed è la condizione necessaria per la seconda azione e la futuro semplice telefonerò l'azione conseguente della prima quindi la conseguenza sarà al futuro semplice e conclusione sarà il futuro anteriore conclusione quindi usiamo il futuro anteriore perciò io devo arrivare prima a casa e concludere l'azione nel futuro e la conseguenza cioè la seconda azione è quello telefonare che sarà al futuro semplice allora tempo composto significa che è formato da due parole la prima parola coniuga al futuro semplice del ausiliare essere o avere al futuro semplice come scegliamo se usare l'ausiliare essere oppure avere dipende se il verbo che scegliamo è transitivo oppure intransitivo un verbo transitivo è seguito da un oggetto diretto come verbo transitivo più oggetto diretto mangiare una mela quindi scegliamo ausiliare avere un verbo intransitivo un verbo intransitivo invece è seguito da un oggetto indiretto e con una preposizione come andare a scuola quindi scegliamo l'ausiliare essere quindi sono andata a scuola anche per i verbi intransitivi possiamo dire come abbiamo conosciuto nel livello B1 con verbi di movimenti con verbi di stato i verbi riflessivi i verbi di cambiamento e l'ultimo impersonale che in questi casi noi possiamo usare solo ausiliare esse la seconda parte parla invece il partecipio passato del verbo che vogliamo usare come sapete per i verbi che finiscono in are dobbiamo aggiungere ato per ere dobbiamo aggiungere uto per i verbi che finiscono in ire usiamo ito dovete ricordare quando tutti i verbi sono regolari vediamo le coniugazioni di questi verbi al futuro anteriore nella tabella e studiare avrò studiato avrai studiato avrà studiato avrà studiato avremmo studiato avrete studiato avranno studiato andare sarò andato andata sarai andato andata sarà andato andata saremmo andati andate sarete andati andate saranno andati andate quindi per il verbo andare usiamo l'ausiliare essere quindi dobbiamo fare l'accordo tra il soggetto e il partecipio passato per quanto riguarda il genere e il numero una cosa importante da ricordare è il futuro anteriore si può usare in una frase insieme al futuro semplice o si può usare in una frase da solo in questo caso come vedremo nei esempi il futuro anteriore indica un'azione che accade prima dell'azione espressa dal verbo al futuro semplice per esempio quando avremmo finito il lavorare andremo in palestra quando avrò imparato l'italiano viaggerò di più dopo che avete scritto i compiti usciremmo appena sarai tornato a casa festeggeremmo prima dobbiamo concludere l'azione di studiare l'italiano finire il lavoro scrivere i compiti o tornare a casa e dopo la conseguenza è il futuro semplice perché il futuro anteriore esprime il passato nel futuro si chiama futuro ma per fare un'ipotesi su un'azione passata quindi vediamo un esempio abbiamo due eventi futuri succedono tutti nel futuro ma conseguenza rispetto l'uno dall'altro vediamo avrò terminato di studiare tutto il programma da oggi in poi e dopo che sarò pronto per dare l'esame quindi sarò pronto ma non prima quando avrò studiato tutto in questo caso facciamo un'ipotesi su qualcosa che è successo nel passato adesso non sono pronto per dare l'esame ma forse quando avrò studiato tutto sarà pronto per questo un'azione futuro passata passata rispetto a quella principale se siamo nel presente il futuro semplice sarà qui e il passato prossimo qui prima del presente e il futuro anteriore un'azione che viene prima di futuro semplice come vediamo tra passato e tra passato è così per per diminuire l'importanza di un'ipotesi a un argomento possiamo usare il futuro in modo presente o passato quindi un modo un altro modo di usare il futuro nel passato o presente è questo quest'abito da sera è bellissimo costerà molto forse costa molto io sto ammettendo che questo abito è molto bello ma questa cosa non è importante per me quello che è importante è troppo caro costa molto quindi stiamo diminuendo l'importanza di un abito oppure a che ora saranno partiti Marco e Anna? un dubbio nel passato questo frase non indica il futuro quindi l'importanza diminuisce quindi non stiamo parlando il futuro o il futuro anteriore il futuro semplice stiamo parlando di un'ipotesi quindi possiamo usare il futuro per parlare di un'ipotesi per togliere importanza di un argomento quindi usiamo questo futuro concessivo si chiama futuro concessivo facciamo gli esercizi adesso tocca a voi il primo esercizio domani sera il nostro fratellino sarà nata sarà nato nascerà nasce quale? la risposta giusta sarà nato perché fratellino è un maschio quindi sarà nato numero 2 dopo domani il concerto sarà finito avrà finito finirà è finito la risposta sarà finito numero 3 domani dopo che di lavorare in palestra sarà finito andremo finito andrà ha finito andremo avrà finito andrà la risposta avrà finito andrà numero 4 quanto costa un caffè a milano non lo so un euro e trenta euro costerà avrà costato costa ha costato costerà un euro trenta euro numero 5 perché paola si è arrabbiata una brutta notizia riceverà ha ricevuto avrà ricevuto riceva avrà ricevuto numero 6 dove Anna di casa sarà uscita sarà uscito uscirà è uscita l'ultimo Luca ha comparato una casa grande la lotteria sarà vinto vince è vinto avrà vinto avrà vinto la risposta è qui potete di nuovo provare l'esame e vedete la risposta giusta iniziamo a imparare il periodo ipotetico questo sarà avanzato però cercherò di rendere questo argomento facile e possiate seguire bene e usarlo perché ci serve per formulare ipotesi è una costruzione usata per esprimere delle ipotesi adesso vogliamo imparare insieme il primo periodo ipotetico cioè quello della realtà quello più semplice diciamo il secondo periodo ipotetico quella possibilità il terzo si chiama forma irreale o impossibilità alla fine seguiamoci il periodo ipotetico il periodo ipotetico tutti i periodo ipotetico si dividono in due parti quindi la prima parte quella con il se che indica la condizione e la seconda parte che indica la conseguenza per esempio se il costo dell'albergo veronica non è troppo alto prendo quest'albergo come si vede come si vede la conseguenza il periodo ipotetico quindi possiamo dire non esco è molto probabile che fuori piove quindi non esco il periodo della possibilità ma nel questo caso non in questo caso non parlo di possibilità il terzo impossibilità si usa per parlare di una condizione che è impossibile riferimento è nel passato cioè qualcosa che non si è realizzato nel passato se avessi preso il treno sarei arrivato in orario adesso è il momento di conoscere bene il primo periodo della realtà perché si chiama periodo della realtà? come abbiamo detto perché la condizione è certa una cosa reale percepita come una condizione molto probabile dalla persona che parla ma come si forma? il se più con l'uso del presente indicativo più presente indicativo cioè in entrambi le parti della frase presente presente secondo usando il presente indicativo nella condizione e il futuro semplice nella conseguenza uso il futuro semplice è comunque un tempo del indicativo che è il modo della certezza un'altra opzione potrebbe essere il futuro semplice più futuro semplice di nuovo entrambe le parti della frase futuro semplice futuro semplice come prima presente presente è un condizione reale o percepita come molto probabile di chi parla ma il focus è nel futuro l'ultimo caso è l'uso del presente con imperativo nella seconda parte della frase indica qualcuno ha invitato a fare qualcosa vediamo nel esempio seguitemi ancora facciamo gli esempi se piove domani rimaniamo a casa è una cosa certa molto probabile che piove quindi vedete nella prima frase abbiamo usato presente è presente un altro esempio se prendi l'aereo arrivi in meno di un'ora vedete che presente è presente numero due dice se mangi molti dolci ingrasserai nella condizione presente indicativo vedete il futuro semplice nella conseguenza uso questo tempo è il modo per esprimere la certezza posso scegliere entrambe le opzioni vedremo più avanti se domani è bello ci vedremo sicuramente vediamoci domani il terzo facciamo due esempi ancora se potrò aiutarti passerai l'esame futuro semplice la conseguenza è una condizione reale molto probabile è il focus nel futuro un altro esempio se prenderai il treno arriverai a casa tardi quindi futuro futuro l'ultimo caso uso imperativo se hai fame mangia io percepisco come reale o molto probabile altro esempio se sbaglio correggimi o se ti senti male chiamami ti dico chiamare se hai bisogno per ricapitolare per ricapitolare utilizzando questa costruzione significa possibile ma non molto probabile quindi probabilità sarà più basso non ho la certezza che avevo nel primo periodo ipotetico come abbiamo visto nel primo periodo ipotetico avevamo la certezza invece per la seconda non abbiamo la certezza quindi usiamo nel questo gruppo se più congiuntivo imperfetto più condizionale semplice allora nella condizione abbiamo congiuntivo imperfetto la conseguenza abbiamo condizionale semplice facciamo dei esempi se mangiassi più verdura saresti più in forma vedete la condizione è introdotta da se congiuntivo imperfetto la conseguenza è condizionale semplice significa la persona con cui parliamo non mangia molto verdura è probabile neanche dopo forse sì forse no se trasformiamo questa costruzione nel periodo ipotetico della realtà potrei dire se mangi più verdura sarai più in forma significa molto probabilmente il fatto che mangerai la verdura e c'è una corrispondenza certa fra la condizione e la conseguenza la differenza nel periodo ipotetico della realtà il primo e il secondo è proprio nella percezione quindi la differenza è percezione se mi svegliassi prima non sarei sempre in ritardo non ho certezza che accade nell'esempio sopra sto parlando con persone che svegliano sempre tardi e esprime un'ipotesi che però è percepita come veramente poco possibile un altro uso che possiamo mettere nella seconda parte possiamo usare anche per condizioni immaginarie fantasiose che sono impossibili nel presente quindi uso condizionale presente per esempio se io adesso fossi un fiore adesso sarei un girasole la condizione fossi un fiore la conseguenza sarei un girasole stiamo parlando il congiuntivo nel tempo presente quindi io non sono un fiore quindi non sarei mai un girasole siamo arrivati al terzo periodo ipotetico in realtà questa costruzione si usa per parlare di una condizione che è impossibile e il riferimento nel passato è qualcosa che non si è realizzato nel passato impossibile tornare indietro nel tempo ecco nella forma abbiamo se congiuntivo trapassato più condizionale passato cioè la condizione congiuntivo trapassato la conseguenza condizionale passato per esempio diciamo che se non avessi perso tempo sarei arrivata a casa tua per la festa è un condizione nel passato che non si è realizzata quindi ho perso il tempo è un'ipotesi del passato e non posso cambiarlo impossibile perché ho perso il tempo se un altro esempio se avessimo studiato di più il congiuntivo stamattina avremmo saputo fare l'esame se in passato avessimo studiato di più avremmo saputo tutto ma non abbiamo studiato quindi non abbiamo fatto l'esame molto bene una condizione che non si è realizzata nel passato come vedete nei esempi si può usare condizionale presente al posto condizionale passato quindi diciamo se non avessi perso tempo arriverei a casa tua per la festa se avessimo studiato di più il congiuntivo oggi sapremmo fare l'esame quindi cambia anche il tempo stamattina diventa oggi il terzo periodo richiede l'uso di tempi verbali molto avanzato quando lo studente non conosce il congiuntivo trapassato e il condizionale composto quindi potrebbe essere difficile quindi non è un problema se lo troverai difficoltà per capire un'altra cosa all'inizio gli studenti capiscono la costruzione e quali tempi devono usare ma alla fine nell'esercizio o nel momento in cui che devono usarlo possibile collocarsi perché è normale conosce la struttura ma avrai bisogno di molto tempo è molto importante usando i verbi periodi potetici e esercitati che 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 Grazie a tutti